Viola Valentino sull'ex marito Riccardo Fogli, eravamo come Albano e Romina Power Viola Valentino è tornata a parlare della sua precedente storia matrimoniale con il collega Riccardo Fogli Il loro matrimonio è durato 21 anni, dal 1972 al 1993. La 71enne cantante ed ex modella Viola Valentino, pseudonimo di Virginia Maria Minnetti, ha dichiarato, le storie finiscono ma il sentimento persiste, si trasforma però vive E, se è autentico, non scompare mai. Non può, sono stati 23 anni e sono incancellabili Io e Riccardo abbiamo vissuto momenti bellissimi. A prova del fatto che fra i due, sebbene non ci sia più alcun legame sentimentale, è rimasto comunque tanto affetto Molto simile a quello che unisce ancora oggi Albano Carrisi e Romina Power, citati proprio da Viola Valentino Che ha poi aggiunto di voler cantare live con l'ex marito, una volta lasciata alle spalle la pandemia da Covid-19 Una possibilità che Riccardo Fogli non ha ancora confermato, né smentito, noi non abbiamo mai cantato insieme Ho letto quello che Violetta dice. Lei non è la figlia di Tyron Power come io non sono Albano, non ho la sua potenza Credo che sarà difficile, però se il Papa ci dovesse chiamare, un giorno, ha dichiarato il cantautore a Libero Quotidiano Credo che sarà un primo, è un giorno, mayro Grazie a tutti.